ciao a tutti ragazzi di liberi.tv come sempre anche quest'anno siete sul pezzo ci state seguendo veramente in tutte le tappe siamo alla nona tappa sul mona campo felice una tappa durissima ci sono quattro salite pazzesche poi l'ultima salita campo felice è veramente incredibile quindi oggi gli atleti dovranno sudare ma poi vedrete l'arrivo direttamente nei video e capirete la soddisfazione di essere al giro e 2021 iscriviti al canale grazie 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 grazie